Barbara D'Urso non sarà a Sanremo 2025. La conferma arriva direttamente da Carlo Conti. Le voci che circolavano sul suo coinvolgimento come co-conduttrice della chermesse Canora sono state smentite. Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha rivelato su Instagram di aver parlato privatamente con Conti, il quale ha escluso categoricamente la presenza di D'Urso a Sanremo. Alessi ha espresso dispiacere per questa decisione, sottolineando che Sanremo era un sogno nel cassetto della conduttrice. Tuttavia ha sottolineato che D'Urso non rimarrà a lungo lontana dal piccolo schermo, vista la sua indiscussa bravura e il successo che riscuote in teatro. Dopo essere stata sostituita alla conduzione di Pomeriggio 5 nel 2023, Barbara D'Urso non ha più condotto un programma televisivo tutto suo. Nonostante ciò, la conduttrice ha sempre dichiarato di non volersi ritirare e di essere pronta a tornare in TV. La sua partecipazione a Ballando con le stelle ha confermato il suo appeal al pubblico televisivo, dimostrando che c'è ancora spazio per lei nel mondo dello spettacolo. Resta da vedere quale sarà il prossimo progetto televisivo che vedrà protagonista Barbara D'Urso. Ma una cosa è certa, il suo talento e la sua personalità non può essere pronta.